La tenso struttura che diventerà il campo di allenamento adiacente al Palasporto delle Caselle sta per essere finito perché settimana prossima inizieranno i lavori della pavimentazione e poi tutti gli accessori. Quindi credo che siamo veramente arrivati. Questa è stata veramente un'impresa per una piccola società sportiva come la nostra. Abbiamo messo tutto quello che potevamo fare ancora una volta grazie al contributo di Estra che ha capito l'importanza di quest'altra fornitura fra virgolette di riscaldamento perché anche questa dovrà essere riscaldata. Tutto questo dedicato ai nostri bambini, ai nostri ragazzi che sono 350 quindi era giusto non mandarli più in tutte le palestre della città era giusto raccoglierli tutti qua. Quindi in questo modo potremo lavorare in autonomia dal punto di vista delle strutture e cominciare a fare una programmazione sportiva un pochino più importante a partire dalla prima squadra fino a tutti i bambini. Insomma, dove si vuole arrivare? Guarda, me l'hanno chiesto tanti. Sinceramente, nel mio sogno ci sarebbe qualcosa di importante. Ovviamente per fare questo dobbiamo anche avere però delle volte dei partner un pochino più importanti nulla da togliere a tutti quelli che fino ad oggi ci hanno dato una mano. Ovviamente per poter fare grosse categorie ci vogliono anche delle risorse economiche oggi purtroppo in Italia e vedi che il fatto che noi con una squadra di ragazzi di Arezzo fatta in casa, parlo della Serie C siamo riusciti a vincere un campionato fatto prevalentemente da società che invece pagano giocatori importanti per poter fare queste categorie. La mia idea, il mio progetto che da tempo avevo improntato, cioè quello di giocare per la città e per la propria maglia con i nostri ragazzi, ha funzionato. Non mi aspetto adesso un aiuto dal punto di vista politico perché capisco che andremo a spaccare un meccanismo economico che sicuramente darà fastidio a qualcuno. Però questo per noi non importa. Noi continuiamo nella nostra strada con i nostri ragazzi che navigavano nella Serie D e adesso siamo la prima squadra della Serie C. Vogliamo continuare su questa linea e chiaramente poi vedremo i risultati di questi play-off e poi il prossimo anno penseremo ad andare avanti. Sicuramente per i bambini e per i ragazzi adesso questa realtà fra la vecchia struttura del Palasport Extra e la nuova Palasport Extra Young o Junior, non sappiamo ancora il nome che sarà, penso che adesso avremo le basi per poter creare qualcosa di importante.